Ilex subisce l'onda lunga della crisi covid che si sapeva avrebbe potuto colpire anche l'azienda del territorio in autunno ma anche nei prossimi anni in particolare quale scenario si prospetta per il 2021 e purtroppo per Ilex la situazione è stata aggravata dal covid perché sapevamo già di una crisi che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2021 a metà del 2021 con i nuovi modelli invece purtroppo il covid ha bloccato letteralmente il settore auto le vendite a livello sia nazionale che internazionale basti pensare che ad aprile del 2019 sono stati immatricolati 180 mila modelli di autovetture nuove aprile di quest'anno purtroppo nemmeno 4 mila quindi c'è stato un calo di più del 90 per cento e questa onda lunga ha travolto anche Ilex e in questo clima di incertezza tutti i modelli nuovi che dovevano partire nel 2021 sono slittati almeno di circa un anno. Attualmente quanti sono i lavoratori in cassa integrazione? Allora il numero oscilla tra le 30 e le 40 persone fino a un massimo di 50 come picchi in questi mesi sicuramente l'anno prossimo questo dato tornerà a salire la preoccupazione è che purtroppo la cassa integrazione ha un termine. Noi come organizzazioni sindacali anche a livello nazionale stiamo spingendo in modo che il governo approvi un ulteriore decreto per le coperture perché non solo il settore metalmeccanico è in crisi ma tutti i comparti dal turismo al commercio quindi è un mondo che ha bisogno di coperture perché per il prossimo anno non vedremo ancora diciamo una luce positiva per questa situazione. Eventuali spiragli positivi in particolare per il settore dell'automobile da dove possono arrivare? FCA Fiat Chrysler che sta effettuando una fusione importante con Peugeot anche per sviluppare tutto quello che riguarda il mondo dell'elettrico e dell'ibrido sta mettendo in piedi una serie di nuove autovetture e sembra che abbia scelto proprio per la fornitura dell'alzacristalli per il segmento B Ailex come azienda di riferimento a la tonale che è l'Alfa Romeo nuova il SUV del segmento B che è quello che poi farebbe partire anche investimenti che auspichiamo che comunque non partirà come è stato detto nel 2021 almeno all'inizio del 2022 e poi altri tre nuovi modelli che sono uno della Jeep uno sempre dell'Alfa Romeo sempre uno della Fiat che anche quelli potrebbero vedere la luce nel 2022 se il mercato tornerà a stabilizzarsi al periodo pre-Covid.